Guarda che sci! Guarda! Dio, con i rampa anche quest'anno! I coi, i coi! Vero? Stiamo partendo per la Gleiteneri Yacht. E ecco che onore oggi avere la nostra guida alpina, Oscar De Benassutti, grande istruttore e grande maestro di sci alpinismo, oggi è con noi e sta già guidando tutta la carovana. A ruota segue Martina, Sara, Luisa, Malo, Alberto, Diego, Claudio e Luciano. Marracines, è sempre una meraviglia. Dove arriva? Questa è una meraviglia. Spettacolo! Buon vero, buon vero, buon vero, buon vero! Sì, tre donne al comando, ecco il tagliadela che non va avanti a botte! No, anche il sole! Sì, tre donne al comando, ecco il tagliadela che non va avanti a botte! Vero? 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 Sì, ecco, sempre uno spettacolo, la Cinex. Che polverone, che polverone! Alla prossima 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 Alla prossima